e che sono passati centinaia di migliaia di anni che sono stati necessari a farci ambientare nel globo terraqueo, quest'atomo opaco del male, diceva il poeta Pascoli. Allora, ci siamo adattati al clima, al caldo, al freddo? Sì, ce l'abbiamo fatta. Con l'arrivo del grande caldo accade che anche il nostro cuore vada accudito con premura e intelligenza. Ne parliamo oggi con il professor Massimo Volpe, emerito dell'Università di Roma Sapienza, Istituto di Ricerca e Cura, San Raffaele e presidente della Società Italiana di Prevenzione Cardiovascolare. Non a caso ho fatto quel piccolo prologo, forse anche gradito dal professore qui seduto. Buongiorno. Buongiorno. Allora, si susseguono le stagioni, le temperature cambiano, è fisiologico, è normale, guai se non fosse così. Il nostro organismo quanto è capace ancora di darci delle belle notizie circa l'adattamento? Il nostro organismo è una macchina straordinaria e soprattutto l'apparato vascolare che copre una superficie enorme, qualcuno dice come un campo di calcio per ogni persona, è quasi inimmaginabile, è in grado di adattarsi attraverso piccoli adattamenti a temperature molto basse o molto alte e questo ha consentito alla umanità di svilupparsi e a noi di resistere alle stagioni più estreme. Perché il nostro antenato di un milione di anni fa passava i guai suoi sul globo terraqueo, appunto. Va bene, professore. Quali sono gli effetti del caldo su questo sistema, su questo campo di calcio di vascolarità? Bene, arterie, capillari, quanto è tanto l'interesse? Soprattutto, diciamo, la vasodilatazione consente praticamente anche poi la sudorazione e di resistere al caldo estremo. Questo comporta un abbassamento spesso della pressione arteriosa che può essere fastidioso e un aumento della frequenza cardiaca. Il cuore ha la necessità di pompare un po' di più proprio per supportare la vasodilatazione periferica. Allora, il cuore non va mai in vacanza, non è il titolo di una canzone, di Morandi, ma insomma. È bello però e le temperature possono anche disturbare la sua vicissitudine quotidiana di alimentare la nostra vita, di farci amare e di provare sentimenti oltretutto. Se va in sofferenza per l'eccessivo calore, cosa possiamo fare? Chi è che se ne deve occupare? L'umidità, per esempio, quanto conta sulla salute del cuore e sul sistema vascolare nella sua complessità? Tutte le modificazioni climatiche, in questo periodo se ne è dovuto parlare tanto, hanno degli effetti importanti sull'apparato cardiovascolare perché possono causare proprio attraverso la tachicardia o il calo della pressione estrema anche dei disturbi importanti. È chiaro che le persone più a rischio, poi ne parleremo, sono quelli che hanno anche delle malattie cardiache o che assumono dei farmaci. Insomma, il problema principale che va comunicato alle persone è che devono evitare l'esposizione estrema e se per esempio un ambiente è troppo umido anche cercare in qualche maniera di proteggersi e di allontanarsi da un'umidità eccessiva. Le faccio una domanda da ipocondriaco militante. Si avvertono i sintomi di questo disagio oppure c'è bisogno di fare una visita periodica e poi stabilirlo? Beh, intanto come per tutte le cose c'è un allenamento. Ah, ecco. Noi siamo, diciamo, in certe parti del mondo sono molto più allenati al caldo e al caldo umido rispetto a noi. Però, diciamo, noi dobbiamo stare attenti e avvertire i primi segnali. Li vediamo là, le stanchezze sono lenta praticamente, i vertigini. Queste sono le sensazioni che... Vale la pena ascoltare il medico. In questi casi, se uno ha un affaticamento importante, addirittura vertigini, o delle lipotimie, o il senso di perdita di conoscenza, è chiaro che bisogna subito rivolgersi al medico per capire se c'è... Questo lo fa sicuramente chi ha già avuto dal medico avvisaglie nel corso degli anni, misure di prudenza, preghiere ad avvertirlo, eccetera, eccetera. Insomma, vale la pena, quindi, di consultarlo il cardiologo? Sì, sicuramente per chi può essere definito un paziente, questo senz'altro, ma più in generale, per tutta la popolazione, anche per i bambini, anche per un atleta... Perché si possono aggravare condizioni altrimenti... Forse, ecco, un eccesso di caldo, di caldo umido, eccetera, può causare dei sintomi improvvisi. E questo è bene che lo si sappia, come è fatto proprio di educazione a mantenere la propria salute e il proprio benessere, insomma. Ora, Benedetta, che viaggia moltissimo con il suo telefonino, ci rendo resa conto di una scoperta che ha fatto. Ho scoperto intanto l'autore della canzone che mi citavi prima della tradizione, ma te lo dirò dopo. Detto questo, andiamo nel Regno Unito, professore, da uno scienziato, Lewis Halsey, che ha affermato in uno studio appunto che la temperatura fra i 40 e i 50 gradi possa mettere in serio pericolo il funzionamento del cuore umano. Allora, le chiedo qual è la temperatura massima che può sopportare il cuore dell'uomo. Guardi, io non sono sicuro che questo valga per tutti. Ripeto, molto importante l'abitudine del sistema vascolare. Per esempio, un mio amico che vive nei paesi, diciamo, in Arabia fondamentalmente, mi ha detto che lui quando esce dall'ufficio e deve raggiungere la macchina affronta temperature anche più alte che all'interno dell'auto, ci sono anche 80 gradi. Quindi è chiaro che, diciamo, questo può essere sopportato per pochi secondi, poi bisogna ricorrere a dei sistemi di refrigerazione. Però questo è anche il segnale della grandissima capacità che è il nostro organismo, anche per le temperature bassissime. C'è chi vive in Siberia o in Alaska che è abituato ad avere temperature anche di meno 40, meno 50 gradi. Noi già quando vediamo lo zero cominciamo a coprirci enormemente. Insomma, quindi è molto importante anche l'abitudine dei singoli esseri umani a seconda delle latitudini in cui vivono. Anche in Italia, fra il nord e il sud, ci sono delle differenze climatiche, soprattutto nel periodo estivo, importanti. E quindi questo non vuol dire che i siciliani si debbano preoccupare del caldo di più dei milanesi. è un fatto anche di abitudine e di preparazione del proprio sistema vascolare. C'entra anche in parte un dato psicologico, secondo me, psicosomatico, perché credo che un abituarsi al caldo possa scaturire dal fatto che uno non si è mai mosso da quel paese dove si arriva a 40 gradi. si abitua a questo. Professore, ecco, se uno si abitua, però vuole stare sempre attento e non sfancherà di abituarsi ad andare dal medico, qua va a chiedere, professore, lei mi ha dato questa terapia con questa cartuccella, ricetta, con questi preparati, con questa posologia. Devo cambiare queste abitudini temporaneamente fino all'equinozio? Purtroppo questo è molto vero, nel senso che la terapia del periodo invernale, soprattutto, non so, i farmaci antipertensivi, quelli che si usano per la pressione arteriosa, oppure i farmaci vasodilatatori, quelli che prendono le persone che hanno lo scompenso cardiaco, o il diabete, o le malattie renali, e beh, in questi casi, i diuretici, per esempio... Questo professore medico che lo ha in cura, nel suo prontuario, nella sua agenda, non c'è chiamare Luigi Rossi perché devo cambiargli la terapia? Questo immagino che sia più difficile, credo che sia importante un po' una partnership, fra una collaborazione tra il medico e il paziente per, come dire, rimodulare i dosaggi e il numero di farmaci, il tipo di farmaci nel periodo estivo. Allora, il suo paziente verrà a chiederle, professore, dopo questa intervista, che cosa devo fare io? Quale caldo posso affrontare? Qual è la vacanza ideale? Dove mi consiglia di passare questi giorni di riposo? Io in genere ho dei consigli molto semplici. Uno è quello di evitare gli sbalzi di temperatura dal caldo eccessivo al freddo eccessivo. Per esempio, al mare è molto importante non stare delle ore al sole e poi tuffarsi magari in un'acqua che può essere non caldissima. La stessa cosa può succedere anche in montagna, perché, diciamo, in montagna le temperature hanno un'escursione termica nel corso del giornale di riposo. Sì, però è meno traumatica. È meno traumatica. La collina, come dicevano i nostri genitori, nonni, è forse la cosa ideale, no? Andavano questi posti a 300-400 metri. A mezza altezza. A mezza altezza e si stava bene. Ecco, però, soprattutto, ecco, nella vacanza classica estiva, quella, la vacanza marina, è importante evitare le ore particolarmente calde, l'esposizione diretta al sole per molte ore e le escursioni termiche. Ora, non tutti sono pronti a raggiungere apriche zone di rilassamento psicologico e fisico, collina, mare, montagne, addirittura le dolomiti meravigliose, che suggerisco a tutti, ma se rimane in città questa persona perché ha voglia di farlo, perché non ha voglia di partire, perché non può permettersi la vacanza, che cosa può fare per tutelarsi? Intanto chiamarlo al telefono e chiederglielo. Ma insomma, facciamolo noi come servizio pubblico. Sì, intanto il riferimento all'usare sistemi telematici di contatto con il medico, per esempio nei periodi di massimo valore, è molto importante. In città è chiaro che la difesa principale è la casa, tenere, diciamo, sufficientemente arieggiato. Quindi un bel sistema di aere condizionate... E questo ormai credo che faccia parte di molte realtà. Purtroppo in alcune realtà questo non è possibile, per motivi proprio logistici o economici, sociali, e quindi l'adattamento è più fastidioso e doloroso. Però va fatto uno sforzo per evitare di stare molte ore al caldo umido consecutivamente. Il caldo, ha precisato umido, ha perfettamente ragione. Francesca? Professore, la Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare ha definito alcune buone norme, per l'appunto alcune già le stava anticipando lei, per quanto riguarda le temperature molto alte per chi soffre di patologie cardiovascolari o comunque per chi potrebbe essere a rischio. È sempre stata la Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare attenta anche alla tecnologia e ha creato un'app, un'applicazione, per poter dare questi consigli. Ci può dire in cosa consiste e come può essere consultata? Questa è un'applicazione che in questo momento sta giustamente facendo una fase, come chiamiamo noi, pilota, perché tutte le app vengono immesse direttamente senza verificare se hanno effettivamente un vantaggio. Questa app si chiama Heart Away, cuore lontano, e serve in qualche misura a far dialogare meglio i pazienti e i medici. In questo momento noi la stiamo testando sui pazienti con ipertensione, proprio per regolare in maniera più dinamica le terapie, magari attenzionare dei sintomi e recepire le segnalazioni che vengono dai pazienti. Il nostro pubblico è composto da tante generazioni. Per le generazioni agè, cioè per gli anziani, i vecchi, siamo stati abbastanza precisi e credo disponibili a esserlo ancora di più. Ma quello che mi interessa oggi adesso è chiedere ai giovani, che magari ignorano di avere una blanda predisposizione a una cardiopatia o che non ce l'hanno proprio per niente, sono sani come pesci. Devono comunque difendersi da un caldo torrido e pericoloso? Sì, io penso che questo faccia soprattutto riferimento alle attività ludiche, alle attività fisiche e all'attività sportiva. Ci sono delle condizioni che possono essere pericolose anche per i soggetti più giovani. Quando dice sportive, professore, non intende dire andare allo stadio a vedere chi gioca? Giocare, possibilmente, no? Sì, anche allo stadio fa caldo, a volte molto caldo, però quando uno gioca a calcio, a calcetto, a padel, a tennis a mezzogiorno nel mese di luglio o fa una camminata veloce o una corsa, bisognerebbe sempre rapportarsi alla temperatura esterna. Scegliere, per esempio, le ore del giorno meno calde, la mattina presto o la sera, piuttosto che all'ora di pranzo, per dire. Professore, l'inventore della borraccia, il benemerito, andrebbe ricordato con un monumento, perché la borraccia ci consente di tenere l'acqua fresca a disposizione in un ambiente asettico e poter soddisfare quello che è il primo rimedio al caldo che ci intontisce. Posso dire una cosa che ho notato? Che i giovani oggi spesso hanno la borraccia, anche nel posto di lavoro, spesso hanno la bottiglietta d'acqua. Quelli che non ce l'hanno sono gli anziani e farebbero bene a bere abbondantemente nel corso della giornata, soprattutto d'estate e soprattutto quando c'è appunto il caldo umido, come dicevamo. Rimanga con noi, perché io di là ho la borraccia che mi porto anche al lavoro. Ma lei non è ansia. Potremmo dividere un brindisi con bicchieri colmi d'acqua. Grazie. Grazie. Grazie.